Il Sulmona piazza altri importanti colpi di mercato. Dopo aver puntellato il centrocampo con l'acquisto del faro della mediana Fernando Vitone, il direttore generale Giorgio Bresciani farà indossare la casacca biancorossa all'esperto difensore Paolino Mercurio. Si tratta di un tersino sinistro di origine calabrese, classe 1989, che vanta oltre 50 presenze in seconda revisione, collezionate con le maglie del Noicattaro e del Vigor Lamezia, ed una anche in serie B con i rosso-blu del Crotone. Nella passata stagione Mercurio è stato il perno della difesa dell'Isola Liri in serie D, collezionando 24 presenze. Nelle ultime ore si registra anche un altro colpo di mercato, è quello del centrocampista albanese Benkert. Si tratta di un fuori quota di 20 anni, che nella passata stagione ha militato nel Real Vicenza, collezionando 30 presenze in serie D e realizzando due gol. Nella stagione precedente Benkert ha indossato la casacca Granata del Noto in serie D, con 16 presenze ed un gol. È un ingaggio importante per il tecnico Antonio Mecomonaco, che potrà schierare tra i titolari un fuori quota che ha alle spalle due campionati di serie D con il vizietto del gol. Va avanti così nel migliore dei modi il lavoro del Sulmona, che sta completando pezzo dopo pezzo la sua rosa.